Salve, sono Nicola Visciglia, sono professore presso l'Università di Pisa, mi sono laureato in matematica a Pisa, dove ho fatto la mia carriera, mi occupo di equazione alle derivate parziali e per questi miei lavori sono stato invitato qui a tenere una delle conferenze a questo ventunesimo convegno UMI per entrare un po' più nello specifico mi occupo di equazioni dispersive con particolare interesse nel caso di equazioni di problemi che dipendono dal tempo, quindi comportamento asintotico delle soluzioni le parole chiave della mia ricerca sono appunto teoria di scattering, crescita di norme di Sobolev allora le equazioni dispersive sono dei particolari tipi di equazioni in cui, detto un po' matematicamente onde che ha pacchetti d'onda con frequenze diverse viaggiano con velocità diverse ora sembra una cosa astratta, però è una cosa che esiste in natura, ad esempio la luce che noi vediamo sembra bianca, però è sovrapposizione di onde, di frequenza di onde diverse e questa precisa sovrapposizione crea la luce bianca però sappiamo che esiste l'arcobaleno, quindi sotto opportune condizioni quando la luce attraversa le gocce d'acqua si divide in tanti colori a seconda della frequenza questa è una dimostrazione che in natura i fenomeni dispersivi esistono ecco io mi occupo di, se vogliamo, equazioni matematiche che provano a descrivere questo tipo di fenomeni